Mi trovo a Iesi in prossimità di casa del mister Roberto Mancini che ieri sera è ritornato nella sua città per salutare i familiari in primis e tutti gli amici cari di sempre e dove con loro ha organizzato una cena dell'ultimo momento. Hanno prenotato sul ristorante e pizzeria del luogo per rimanere tutti insieme ma nel giro di pochi minuti la notizia per la città si è sparsa e naturalmente amici, conoscenti, tifosi e ammiratori del mister sono arrivati numerosissimi e il ristorante è stato inondato. Noi siamo andati a trovarli quest'oggi, abbiamo ascoltato la titolare e il suo amico di sempre che era presente ieri sera Massimo Tramontana. Andiamo a sentire le interviste. Non ce l'aspettavamo, è stata una sorpresa anche per noi, è stato bellissimo. Ma avevano prenotato, no quindi non se l'aspettavano. Avevano prenotato un amico per sei persone però a nome suo, senza dire nient'altro. E poi piano piano quando sono iniziati ad arrivare i vari amici, il papà, il figlio, il nipote, abbiamo pensato qui c'è qualcosa stasera e così per ultimo è arrivato lui. È un cliente abituale? Ogni tanto viene, sì. Ma com'è il Roberto fuori dai riflettori? No, è una persona bravissima, molto alla mano, sociale con tutti, dal bambino piccolo ieri sera ha fatto le foto, alle persone adulte, grandi, con tutti. Quindi alla fine non è stata proprio una cena ieri sera, è stato un firmare autografi? Sì, anche autografi, tutto. Purtroppo l'abbiamo fatto cenare e abbiamo tenuto la gente ferma finché non ha finito di mangiare. E poi dopo è esplosa la cosa, non si riusciva a contenere. Ieri è venuto fuori molto così, estemporaneamente. Si siamo sentiti al telefono, mi ha detto dove andiamo? Ha detto andiamo qua a Iesi ovviamente. Abbiamo deciso di mangiare una pizza e siamo venuti qua, anche perché qui siamo di casa, conosciamo tutti e veniamo spesso. E Roberto come si è comportato? Bellissimo, come sempre. Sempre disponibile anche se la gente magari non ha l'arcortezza di non disturbarlo mentre mangia. Lui è sempre cordiale e disponibile con tutti. 50 anni di amicizia sono difficili da raccontare? Sono difficili da raccontare in due minuti. Le nostre ragazzate che sono le più belle da ricordare, più passa il tempo e poi sono più belle da ricordare.